Grazie al taglio delle indennità del sindaco e dei componenti della giunta di Mondolfo riparte il concorso di idee aperto a tutti i cittadini per suggerire in che modo utilizzare questo avanzo che quest'anno si aggira intorno ai 21.400 euro. Quest'anno le risorse accantonate sono di 21.400 euro relative all'anno 2019 e all'anno 2020. In questi anni abbiamo accantonato circa 60.000 euro con la quale abbiamo fatto tanti progetti per la nostra città. Abbiamo installato nuove attrezzature sportive sul lungomare, abbiamo restaurato il monumento ai caduti nel centro storico di Mondolfo, abbiamo dotato le nostre scuole e scuole del territorio di lavagne interattive multimediali, schermi LCD, pc portatili. Tutti i cittadini possono partecipare inviando una mail all'indirizzo urp.comune.mondolfo.pu.it entro il 31 di ottobre e descrivere le varie idee per contribuire e migliorare il territorio e i servizi nel comune di Mondolfo. Come amministrazione comunale per noi è un dare un esempio, ognuno di noi può fare la sua parte per migliorare la propria città.